Ciao, questa bellissima ragazza francese è una principessa, si è francese, non è francese, è di un pianeta lontanissimo che si chiama il pianeta dell'amore, vero? E si chiama Venus, e lei è una principessa innamorata, non so se è innamorata oppure non si sa bene, la storia è in fantascienza, e questi sono due robot, due droidi, semi umani, mezzi umani, mezzi robot, cioè molto belli, fatti non so da chi, addirittura, chi sono questi qua? Guardate, sono i tuoi, beh non fa niente, vediamo un po', si muovono, molto belli eh, avete visto che sono molto simpatici, non parlano, tutti molto simpatici qua, bello bello simpaticone, anche perché non parla, capito? Non dice niente, guarda si muove tutto di metallo eh, posso vedere, no è proprio metallo, si può poter fare, va bene, allora la nostra cara principe, scusa, andiamo un po' facendo così, non si muove. No, 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 lui non lo sa, poverino, viene dalla fantascienza. Dunque la nostra principessa dal pianeta dell'amore ci presenterà, lei la ballerà perché verrà, non si sa, è una storia stranissima che non si può capire perché viene da un altro mondo, un brano che si chiama La Forza, The Force, vero? Allora noi siamo qua tutti in attesa perché è molto bello, molto magico, si, li accompagniamo, vediamo un po', loro vanno indietro eh, Roberta, ricordati, ecco speriamo bene, marcia indietro, scusate, certo sono molto strani eh, molto belli e molto strani, ecco, siediti, vediamo bene, chissà se fanno la pipì, no, scusate, non lo sa, bene, i droids. Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.